Un benvenuto agli ascoltatori da parte di Biagio Mannino. In autunno sia gli Stati Uniti che la Repubblica Popolare Cinese vedranno un test importante inerente proprio al loro contesto di politica interna. Negli Stati Uniti le elezioni di mid-term, ovvero il rinnovo di una parte dei componenti del congresso, un aspetto di notevole importanza proprio per andare a valutare quanto Biden ha prodotto nei primi anni della sua presidenza. Infatti Joe Biden entrava in scena il 20 gennaio del 2021 dopo un anno, il 2020, estremamente difficile per il contesto della politica statunitense e per il contesto sociale degli stessi Stati Uniti. L'epidemia di coronavirus che colpiva in modo particolare il 2020 vedeva in concomitanza anche la campagna elettorale per la nomina del nuovo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump è in forte difficoltà che doveva affrontare una situazione particolarmente difficile proprio nella gestione da un lato sanitaria e dall'altro sociale. Un anno che ha visto una campagna elettorale decisamente intensa con una grandissima partecipazione di elettori in occasione proprio delle elezioni del mese di novembre. Vinceva Joe Biden che si insediava la Casa Bianca come detto il 20 gennaio del 2021. La politica di Biden volta a riportare gli Stati Uniti nel contesto della geopolitica globale. Gli Stati Uniti che dopo la politica di America First portata da Donald Trump si sono trovati sostanzialmente in una perdita di posizioni delle collocazioni strategiche a livello come detto globale con un prevalere dei posizionamenti da parte della Repubblica Popolare Cinese ma anche da un'affermazione della Russia. Strategie degli Stati Uniti nella direzione di una contrapposizione con i due grandi competitori Repubblica Popolare Cinese e Russia e contemporaneamente con la volontà di far sì che l'Unione Europea sostanzialmente continui a guardare ma che quel rapporto con gli Stati Uniti diventi sempre più forte fino a quasi una sostanziale dipendenza. Contrapposizioni come detto e che vedono un'accesa situazione proprio nella contrapposizione nella guerra che si sta vedendo in Europa in Ucraina. Dall'altra parte la Repubblica Popolare Cinese che in autunno vedrà il ventesimo congresso del partito comunista cinese che potrebbe confermare Xi Jinping alla guida della Cina. Ma per Xi Jinping le problematiche non sono poche. Molto discusso all'interno della realtà cinese è iniziata una vera e propria campagna comunicativa nei confronti del popolo cinese proprio per mettere in evidenza il ruolo e l'importanza che il leader ha in questo momento. Vengono distribuiti libretti rossi un po' sul modello di quanto faceva Mao ma questa volta però i libretti rossi sono di stampo moderno abbinati a quanto Xi Jinping dice, a quanto Xi Jinping fa nel contesto della Repubblica Popolare Cinese. Xi Jinping si mostra il popolo cinese come figura determinante nel contesto dell'ascesa della Repubblica Popolare Cinese in particolare nel periodo del suo doppio mandato che sta andando verso la scadenza. Ma come detto all'interno del partito comunista cinese non tutti la pensano allo stesso modo anche perché la Cina si trova ad affrontare delle difficoltà che si mostreranno nel prossimo futuro rischiando di compromettere proprio questa corsa che la Cina sta compiendo a livello globale. Per oggi questo è tutto.